Primo round! Vai Patti! Vai Patti! Patti ci sono io davanti! Patti e Nicolino! BAM! La cartella e quell'altro li tira la dubitata! Esci, esci! Sì sì, tutto Tai oggi! Dai Patti! Dai Patti! Su Patti! Dai Patti! Vai Patti! Dai Patti! Di braccia anche! Chiudi dai braccia! Vai Patti! Ma è il kick! Quello mongolo lì che mi becca sempre! Dai Patti! Che cagnota Maria Alfatti! È troppo diverso! Sì ma ci sta! Però è importante che non si affossa lei! Dai Patti! Grazie! Fine della prima ripresa! Inizio della seconda ripresa! Che cazzo l'arri sembra del buco! Che cazzo l'arri sembra del buco! A caccia! A caccia! Tu quando sei arrivato in palestra Praticamente al posto che entrare tu arrivi da fino praticamente Tu vai su dritto Arrivi in cima devi praticamente fare Allora È di braccia! Vai destra-sinistra e ti trovi che puoi andare o a sinistra o a destra ancora Praticamente devi fare un giro intorno Giri a sinistra poi ti segui la strada e incominci a vedere tutte le macchine parcheggiate e lì sarebbe il dietro del palco Io vi devo una birra tutelina sorta A un certo punto sei obbligato a fare una curva a destra perché se vai dritto è contropenso Tu lì fai una specie tu giri a destra e ti giri intorno a una carica fai un giro intorno e poi sei obbligato è un po' complicato ad andare giù a destra ancora lì è il dietro del parco puoi parcheggiare lì e venire dentro fine della seconda ripresa e poi segui la strada poi puoi decidere se andare a destra verso Fino Mornasco e andare a sinistra tu vai a sinistra e poi e poi arrivi al parco va bene ciao ne vai terzo e ultimo round brava Patti vai di box su la guardia Patti bello kick brava Patti sopra la gamba vai dai Patti su dai Patti su non mollare Patti fai lo kick oe ancora un altro vai Patti mica ma anche io arriverò a quel punto di essere morto no no e che scada no tu arrivi a un certo punto che dici ma chi me l'ha fatto fare vabbè cioè voglio che proprio a mia mente a un certo punto mi dice tirami tra di te dai Patti io partirei col peggio doppia Patti fine dell'ultimo round brave in attesa di conoscere il verdetto dei giudici prima degli incontri di K.O. ci saranno e vince l'incontro femminile all'angolo blu per la Milano Fight Milano Marenzi Malou premia Jacopo Campi Patti Patti Patti